Stavo passeggiando per strada, quando ad un tratto ho sentito provenire dal secondo piano di quel palazzo una melodia bellissima, una voce così suave e lieve. Senza dubbio sentivo provenire ogni nodda dall'intimo di chi cantava. Una liricità profonda, propria del canto classico, naturale, si amalgamava alla musica medievale. Così mi avvicinai al portone, volevo sapere chi fosse con lei che cantava con un gusto così spiccato per la melodia. Ma mentre mi avvicinavo al palazzo sentivo perdersi nell'aria con le note così dolci e allora rimasi in me e non potevo rischiare di non sentire. Si capiva che chi cantava dietro quelle dende bianche dedicava la sua vita allo studio, confrontandosi con l'interpre di femminile più innovativi dei nostri giorni. Rimasi affascinata da tutto ciò, ma era troppo tardi, dovetti andare via e mentre camminavo sentivo sfumare in lontananza quella piacevole melodia e canticchiando me ne tornai a casa. Grazie. 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 Si tratta...